Noi siamo fratelli e come fratelli tutti diversi e tutti uguali, come le ditta di una mano. Cinque sono le ditta, tutte ditta, ma tutte diverse. Il vostro dialogo fra voi, la vostra visita è una vera ricchezza di fratellanza e per questo è una strada verso la pace di tutti, la pace del cuore, la pace delle famiglie, la pace dei paesi, la pace del mondo.